A livello completamente fisico abbiamo fatto una settimana di buoni allenamenti con buona intensità. Abbiamo cercato di mettere a posto i nostri attacchi contro blindisi, abbiamo cercato di puntualizzare e lavorare in difesa qualche automatismo importante sulle nostre regole. Un po' di lavoro l'abbiamo messo lì, ho un po' di timore che i ragazzi a settimana lunga non riuscissero tanto ad affrontare a livello mentale e invece si sono allenati con buona dedizione. Andiamo in un campo che è chiaramente un dato di fatto che è molto difficile, molto pesante. È un campo tosto, una squadra da grandissimo talento sia perimetrale che sotto canestro e che è una panchina lunga anche se i primi cinque sono quelli che si dividono fondamentalmente tutti i minuti e danno più forza nel giocare e nell'essere partecipi. Doveva fare una partita molto attenta, molto solida, una partita che ci dia delle certezze per poter stare in campo con dell'equilibrio.